Eccoci con Mr. Domenici, oggi bella vittoria importante per accorciare con le prime. Un commento? È stata una bella partita, giocata soprattutto dal punto di vista temperamentale, più che tecnico. Due belle squadre, le loro sono una grossa squadra secondo me, una delle migliori che ho visto, e ci hanno messo molto in difficoltà. Poi abbiamo trovato quel gol fortunoso, siamo riusciti a difenderlo, e poi vabbè, una serie di circostanze, espulsioni, controespulsioni. Però ecco, perché si è potuto giocare a calcio, mi sono divertito nel primo tempo soprattutto. Penso che era stata la miglior partita della stagione, proprio non vostra, ma proprio tutti, di tutte le due squadre. Sì, perché c'erano ritmi alti, si giocava a ritmo alto, si giocava a calcio, e penso che sia stata proprio una bella partita. Mi sono piaciute tutte le due le squadre, infatti. Infatti, parlando solo del primo tempo, cosa avete avuto magari in più in confronto di loro? Ma al primo tempo non abbiamo avuto nulla in più, secondo me. È stata una partita abbastanza equilibrata. Abbiamo trovato il gol, che forse ci ha fatto giocare mentalmente leggermente più liberi. Però siamo stati bravi poi a mantenerlo, non bravi a non chiudere la partita, abbiamo avuto diverse occasioni. Verissimo. Nel secondo tempo anche bravi comunque mentalmente a rimanere in partita, sia con l'uomo in più, ma anche poi con parità numerica. Sì, infatti sono contento di quello, sono contento di non aver preso gol, perché questa squadra purtroppo, lo dice la classifica delle marcature, abbiamo preso tantissimi gol. E oggi essere riusciti in uno scontro diretto, una partita così tesa, ma non prenderlo, è la cosa che mi rende più contento. E vediamo bene per il futuro. Mister, ancora grazie e un bocca al lupo. Grazie.